Se amate il sapore del tè e allo stesso tempo curare il giardino potete unire le due passioni grazie ad un trucco fantastico. Gettare le bustine del tè dopo averle adoperate è un vero peccato in quanto le foglie presenti all'interno del sacchetto continuano a mantenere le loro proprietà benefiche. Le bustine rinvigoriscono il terreno e nutrono le piante grazie al tannino che fa aumentare i livelli di azoto del terriccio. Essendo acide le foglie accelerano la decomposizione di scarti alimentari e di carta. Le proprietà del tè contribuiscono a creare fertilizzante per le piante. I sacchetti di tè sono biodegradabili e tra le loro funzioni principali c'è anche quella di ostacolare la formazione di erbacce. Tra l'altro il loro forte profumo dissuade parassiti, insetti e persino i gatti allontanandoli dalle piante. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.